Quindi è chiaro che tutto ciò deve essere fatto sempre all'interno di quel processo di democrazia di confronto che deve trovare le parti a dialogare in maniera civile e corretta. Detto questo è evidente che quando si fa fare la chiusura alla ristorazione, ai bar alle ore 18 non si spiega per quale motivo dopo le 18 ci sia male in un ristorante, laddove in un ristorante ad esempio si adempia alle distanze di sicurezza e ai protocolli così come sia di impiuto facendo formazione, facendo investimenti, la stessa problematica non avviene ad esempio in una grande distribuzione. Io vado al supermercato e dopo le 18 evidentemente la distanza tra un carrello e un altro, a volte è molto al di sotto del metro. Quindi evidentemente si stanno utilizzando modelli diversi senza una linea di coerenza in relazione a quello che si deve fare. Io ho sentito stamani quello che ha detto la Vice Ministro Castelli, che ricordo fu quella che disse se i ristoranti non hanno lavoro o cambi in attività. Il 200%? Il 200% ma di che cosa? Ne vogliamo parlare? Vogliamo sapere che cosa è stato dato alle attività? Ma queste persone sanno quanto costa tenere in piedi un'azienda? Si sa che in un ristorante la componente food incide dal 18 al 20% del globale dei costi? Tutte le altre spese, tutti gli altri costi rimangono inalterate e quel 200% di ristoro è assolutamente un mandare la palla in avanti, è un non dare una risposta e dire faremo qualcosa, non è così che si possano affrontare tematiche importanti che stanno distruggendo l'economia del Paese e stanno rendendo forti tensioni sociali.